Buongiorno a tutti, benvenuti a Zakazik. Oggi il teatro si trasforma nella città immaginaria di Zakazik. A Zakazik ci vivono degli strani personaggi. Alcuni parlano, altri non parlano ma danzano, altri ancora parlano delle lingue molto strane. A Zakazik però la situazione non è delle migliori. Non tutti sono contenti di quello che accade in città. Ci sono dei personaggi buoni e dei personaggi un pochino meno buoni. Oggi noi saremo tutti abitanti di Zakazik. E quindi dovete tenere sempre le orecchie bene aperte e anche gli occhi. Benvenuti a Zakazik. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 , 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 ,, , Mr. Presidente, scommerò, portato. Vendrai, Mr. Presidente, si proceda, non voli teso, l'ordinanza è attuativa. Vendrai, Mr. Presidente, il centro commerciale will be il nuovo mestre commerciale. Vendrai, Mr. Presidente, vendrai, Mr. Presidente. Vendrai, Mr. Presidente. Sapaci, ciao, la voce è tua di dentro ma ora no da e nel trasporto. E per te non è là. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì… Voi e votate! Sì, ma se non compriamo quel giudice... Cosa? Ancora con lo spot! Perché? Quando è che gli sgomberi sti pazzi furiosi? Eh? Senti! Dimmi un po'! Diamo fuoco a zacche e zicche! Ne fabbricheremo uno di cemento armato! Eh? Non si può! Non c'è il decreto! Cerini ne abbiamo? Eh, Cerini? Eh, vabbè, vabbè! E piripì e portò la legge, la legge! Un enormi decreti! Ma che palle! Vabbè! 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. , grazie a tutti. 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 non potete... grazie a tutti. 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 la nonna la nonna Non è lo sfruttante! Sveggia a dirò che le sue lezioni! L'uomo è l'uomo! Sì! 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 Signora, che ricordi ancora Il tempo della vita torna a Gazzì quando i mucitti i vicitti che non si chiuderemo che non si ridica ci sarà l'uno che è vero! Sì! 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 Guardi! Sì! Che del nostro! È nostra la gestione Il nostro è la gestione! Sì con mia signori La superiore, la superiore. La superiore, la superiore. La superiore, la superiore. La superiore, la superiore. 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 Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti! Grazie per la visione! Grazie a tutti!